Il tetto è l'unico componente che è rimasto in comune tra la nuova Dacia Spring e il modello che sostituisce di quella che è una delle auto elettriche più vendute in Europa e sicuramente la più economica come prezzo. Vi faccio già dare un'occhiata perché intuite che esteticamente si differenzia in maniera netta rispetto al modello precedente e poi ha anche aggiunto dei contenuti più moderni, è possibile ricaricare anche degli elettrodomestici abbiamo provato prima anche a farci un caffè con una macchinetta ma poi anche ha aggiunto spazio di carico sia dietro che davanti con un vano anteriore per rimettere i cavi di ricarica e poi anche guardate dentro c'è un passo avanti evidente in termini di modernità di dotazioni ma anche come allestimenti e cura estetica. Ma adesso ve la faccio vedere meglio sia fuori che dentro e vi spiego cosa è cambiato. I tratti stilistici della nuova Spring si accomunano con le ultime Dacia che sono state presentate come la Duster vedete questo frontale con una fascia sottile che unisce i due fari con tema Y, finitura lucida ovviamente il logo con le consonanti del marchio Dacia e poi tutta una fascia di protezione che corre un po' attorno alla carrozzeria e anche elementi estetici come questi adesivi. vedete attorno ai passaruota ci sono questi fascioni a colpi che danno un look anche un po' fuoristradistico ma sono anche degli irrobustimenti per proteggere la carrozzeria. Le ruote, i cerchi possono essere da 15 pollici sulla versione con motore più potente protezioni anche nella parte bassa delle portiere di nuovo con degli elementi adesivi. non ci sono più le barre sul tetto perché anche valutando l'utilizzo tipico dei clienti della Spring in questi anni che mediamente hanno fatto 37 km al giorno con una velocità media di 37 km all'ora e per il 75% l'anno ricaricata a casa si è scelto di anche eliminare queste barre sul tetto per migliorare i consumi in aerodinamica. non ci sono cromature all'esterno e anche gli elementi neri che vedete così come altri che vi farò vedere all'interno sono verniciati diciamo sono proposti con una tinta già verniciata per evitare che poi quando si graffiano possano perdere il colore ma tornando all'estetica vedete anche dietro viene ripresa questo elemento orizzontale che collega le luci che rimangono a led anche posteriore di nuovo con questa forma AY e ancora la fascia paracolpi nel posteriore il bagagliaio che è sempre stato uno dei punti di forza della Spring che è lunga circa 3,70 m e che adesso ha un vano di carico posteriore che parte da 308 litri quindi già era grande ed è diventato ancora più grande e più sfruttabile vedete che è anche bello profondo con una zona anche sotto il pavimento che può essere sfruttata da piccoli oggetti ma in più come vi accennavo c'è anche la possibilità di avere un vano di carico anteriore da circa una trentina di litri 35 litri e quindi di nuovo per essere comodo per caricare oggetti o soprattutto mettere i cavi di ricarica che spesso sono magari sporchi all'interno vedete la macchina comunque continua ad essere spaziosa sempre pensando che è lunga poco meno poco più di 3,70 m ed è un po' più alta di una berlina normale non è un crossover ma comunque un po' rialzata circa un metro e cinquanta di altezza 2 metri circa e 40 di passo e anche l'altezza da terra è utile per non toccare subito sotto e avete già intravisto ma lo vedete meglio adesso c'è un trattamento estetico anche per quel che riguarda i sedili con la parte alta che cambia colore e sempre parlando di colore ci sono questi elementi vedete che come dicevo all'esterno hanno questa verniciatura di base che all'interno della plancia è bianca per evitare appunto che quando si vanno magari a toccare a rigare non perdano il colore e in più hanno anche questo effetto di evidenziare le parti dell'abitacolo dove sono messe in più il tema del colore riguarda anche questo elemento della plancia che può essere in diverse tinte così come ci sono due nuove tinte per la carrosseria come l'arancio il rosso mattone che avete visto all'esterno assieme a un nuovo beige e si va ad aggiungere ad altre tinte come il verde tipico di di molte altre dacia il volante è nuovo ed è regolabile in altezza così come lo vedete la strumentazione è diventata digitale quindi si un po più di modernità ma rispetto alla presente spring è anche più più leggibile schermo da 7 pollici e oppure uno schermo da 10 pollici per l'infotainment nelle versioni più ricche ed sono però questo non ha diciamo escluso l'utilizzo di tasti fisici molto utili per la criminalizzazione e altre funzioni qui sotto intanto lo avete magari intuito c'è una nuova selettore per la leva del cambio marcia avanti marcia indietro folle in più c'è anche vedete una posizione b break oltre alla d di drive che significa che c'è sulla nuova spring anche un secondo livello di rigenerazione quindi per avere più freno motore anche una guida più più fluida e efficace tra le curve oltre che per un discorso di migliorare la autonomia e i consumi un argomento del quale la spring è sempre stata interessante perché anche perché è molto leggera una macchina elettrica che riesce a stare sotto come preso dichiarato ai 1000 chili e cosa che anche considerando la categoria di appartenenza delle auto cittadine nel segmento a quindi sotto i quattro metri riesce a fare meglio rispetto a macchine che stanno invece al di sopra dei 1100 chili mediamente come batterie e motori elettrici questo restyling non ha cambiato sostanzialmente le cose perché parliamo di una batteria di quasi 27 kilowattora con autonomie dichiarate ancora da omologare per questo restyling di 220 chilometri circa per tutte le versioni tutti gli allestimenti in italia ci saranno due allestimenti motore elettrico anteriore con trazione anteriore e due livelli di potenza 45 cavalli o 65 cavalli prestazione 0 100 di 20 secondi come tempo oppure 14 secondi e consumi dichiarati sotto i 15 kilowattora per 100 chilometri perché insomma questa macchina fa della leggerezza dell'efficienza uno dei suoi punti di forza anche stato riconosciuto da un nuovo istituto che si sta diffondendo simile all'euro n cap per la sicurezza per i crash test che si chiama green n cap che va a valutare l'impatto ambientale la sostenibilità delle auto elettriche e la spring essendo molto leggera e molto efficiente ha avuto un punteggio massimo cos'altro è stato introdotto a livello di furbizie di idee intelligenti ci sono vedete qua dei dei ganci del dei dei punti di fissaggio che vengono definiti smart anche davanti al al tunnel centrale per mettere degli oggetti dei portoggetti come dei portabicchieri oppure delle luci o anche dei supporti per lo smartphone e questo vanno porto oggetti può anche a richiesta essere richiesto con un uno sportello che va a richiudersi e quindi vedete la lato pratico e concreto del la spring rimane così come anche la presenza di questi tappetini in gomma molto molto robusti questi battitacco che hanno questo andamento topografico come nelle mappe in rilievo e poi parlando sempre di concretezza ovviamente anche la nuova spring punta a rimanere l'auto elettrica più come conveniente più economica anche all'acquisto visto che sul mercato stanno arrivando un po di concorrenti come ad esempio la citroen e c3 che punta ad un prezzo inferiore ai 25 mila euro la spring precedente aveva un listino compreso tra circa 21.500 euro 23.500 euro ovviamente sto parlando di prezzi sempre incentivi esclusi incentivi che all'inizio di questo 2024 si stanno rinnovando con dettagli che sono ancora in fase di definizione da parte del governo a livello di conferma ma insomma anche qui la nuova spring per cui gli ordini iniziano questa primavera e dovrebbe arrivare a quest'estate punta comunque a rimanere come vi dicevo l'elettrica più economica da acquistare con un prezzo di attacco un listino di accesso che si punta ci hanno detto qui oggi in Dacia nella prima presentazione alla stampa a Parigi prima che si veda anche al pubblico al sonno di Ginevra per rimanere sotto i 20 mila euro come prezzo di attacco vi dico ancora le prestazioni in ricarica perché abbiamo in corrente alternata una potenza di 7 kilowatt oppure come optional si può avere la ricarica in corrente continua con una potenza massima di 30 kilowatt che permette di andare dal 20 all'80 per cento in circa 45 minuti e come optional anche per quella che abbiamo visto prima con la macchina di 3 caffè c'è l'accessorio per collegare appunto degli altri dispositivi altri elettrodomestici oppure una bici elettrica un computer oppure un aspirapolvere per pulire la macchina proprio alla presa di ricarica fateci sapere cosa ne pensate di questa piccola elettrica questa piccola spring che finora ha convinto proprio per il suo prezzo anche le sue dimensioni e la sua utilità nella vita di tutti i giorni